Sono partito Morelli Vuoi chiedermi dove sono andato? Dove sei andato Marco? Non te lo dico, fatti fatti i tuoi Buonamattina Scusateci per il minutino di ritardo Ma c'è stato un piccolo P-Pro-Quoc con il piccolo PC di Esprit Il P-Pro-Quoc Hai sistemato Mauro? Non c'è Mauro Ah non è sceso nemmeno Credevo fosse qua con noi Allora intanto cosa facciamo L'aspettiamo parliamo un attimo Ne facciamo una Io vorrei che tu accettasti Io non ho niente Mauro Non mi è arrivato nulla Che hai invitato per caso Io ci sono Eh infatti Ti è stato spulso dalla squadra Eh vorrei che c'era Ma ho accettato mi ha alzato tutto Ma siamo scemi? Ma ci sono Ci sono Quante cose che ci sono Ho capito ma Non lo so Amici avete sentito? Appena ho accettato l'invito di niente Mi ha alzato tutto il volume Ma che cosa vuol dire? Scusami Allora come si giocava? Non mi ricordo Storia di guerra No Molti giocatori Che strana situazione Cosa facciamo? Allora quello che volete Io voglio riprovare a fare il cecchino Perché tanti mi hanno dato consigli Mi hanno detto Fai questo Devi usarlo più come un cecchino Meno la code Io ci provo ragazzi Non so Io sto guardando su armeria Ci sono le personalizzazioni Che non so Dove sono Armeria Sei a posto Espre Sei guarito Io vedo Mi sono piccolo io Perché mi ha messo in fiesta piccolissima Adesso Battlefield Cos'è sta roba? Ah ma sono cose piccole Nella personalizzazione Però Scusami per prima Un altro giornale Driver di merda Mi hanno fottuto Come del computer All'improvviso Quindi Boh Non era mai successo Finora E invece Non è mai successo Un successo Come questo successo Che è successo adesso E per te se ci pensi Marco stai zitto Sono a posto le postazioni Che parte il film Marco Sono a posto A parte che quando mi ha invitato Liezer si è rimesso Il volume a 100 Ah mi sembra giusto A parte quello Buongiorno Buongiorno belli Qui non sono a posto In realtà No Non saranno mai a posto Però Le sistemo io Con la forza Ah Liezer Cosa facciamo? Non so Aspettiamo l'Explit Stanno sottotando l'Explit Aspettiamo l'Explit Allora Eh Eh Vediamo se mi fa entrare Volentieri Un pochino qua Sta caricando qualcosa In alto Sta caccando qualcosa Sembra un Pac-Man all'insù Sembra Che la cosa Bravo Mi crei la via di Battlefield 5 Buon salve Buon salve È un Pac-Man all'insù Comunque Allora io adesso Mi prendo No Ho 1100 Non mi prendo Assolutamente niente Cosa ci si può prendere Niente Marco Assolutamente chiede Io ho 1100 Anche io Posto a posto Sono un po' sonnato Questa mattina Ma puoi spiegarmi perché Ma puoi spiegarmi perché Rupert Ciamenna Grazie Si sveglia Questa mattina Ho avuto un disguido Non vedo niente Fai in pieno di fare le impostazioni Ho capito Aspettiamo un altro po' Esatto Ecco Va via È le 11.30 Di chi è la colpa Scusami Tua Eh certo Non vedo niente Potevi provarlo anche Prima di andare in live Alle 11 Ho capito Eh Tra l'altro Marco Questa mattina È successa una cosa Si Io ieri sono andato a letto Con la maglietta Si Questa mattina Mi sono svegliato Con la maglietta Ma al contrario Com'è possibile Com'è Com'è fatto Non lo so Non lo so Però Svegliato con la maglietta Al contrario Aspetta che sta facendo Con la macchina da scrivere Il cartino Hai fatto Scusa Vabbè Partiamo noi Partite voi Vabbè Tanto Buongiorno Sara Capito La prossima volta Proviamo anche prima Le cose La maglietta era consensiente Ti credo Ti chiedo Sono battiti i miei problemi Finora Ma non è vero Ma non è vero Ma perché sta schiacciando Un tasto gigante Sperito cos'è Cos'è Ma non sbattere Che poi ti piace Io già avrei provato Gli aerei No No Perché sto cercando Di fare conquista Ma sono tutte sempre piene Le partite In caso facciamo Qualche altra modalità Anche C'è prima linea E dominio Beh dominio È la classica Di battaglia No Le conquiste Ci sono Tra i server Sono sempre pieni Ma non ci gioca Ma in cazzo Di nessuno Sto gioco No vabbè Credo ci sia Tanta gente Gioca veramente Nessuno No Non gioca nessuno Ma è possibile Cosa Gli hai detto Che sono tutte piene Sì Ma perché sono tre server Io ho vinto nero Vedo Dai facciamo questo qua Forza aerei Cos'è A me più che altro Non è In Europa Non ci sono server Ma mi sembra Veramente strano Questo qua Non so cosa sia Ma secondo me Come FIFA Che ti fa vedere Dei numeri Che non sono veri Non è Le modalità solo aerei Ma non so Dai le modalità solo aerei Non le voglio La condizione Serve via Si interrotta Interessante Vai dai Esprit Fai una cosa Resetta Formatta tutto Cosa sta succedendo Ma state vedendo Com'è che c'è l'aggiornamento Ma scusa Dovrebbe essere una cosa breve In teoria C'è quello che mi ricordo Ma voi cosa state vedendo Io ho una scritta Il violento assalto Vede anche un messico No Un massiccio Messico Messico Sì sì Mi ha detto A posto ieri Gli olandesi E gli scozzesi Gli scozzesi E gli scozzesi Sono proprio Willy Il penicepe di Belangio Ma sono in quattro Nell'altra squadra Scusami E la parte con la storia Cioè È online Però con la storia Se non ricordo male C'è un merino Sull'autobus Che è un merino Sull'autobus Sì anch'io lo vedo Non posso cliccare Non mi posso schiacciare Allora è normale Perché bisognerà aspettare Il caricamento Di chi? Di chi Marco Dello gioco È lo strategico Intemporale Che si gioca dall'alto Eh che coso Come si chiama Lo strategico di guerra Lì Compre un po' l'audio Volevo giocare i videogiochi Ah perché Su vedi l'attesa Di altri giocatori Si connetta 4 di 32 Siamo dai Buono Quindi Bisogna sempre Un gioco Della pazienza Tipo Questo Battles Ma noi siamo Molto pazienti Noi siamo Molto pazienti Lo scordo Si è riuscito Della pazienza Sì Ma che è tanto Non è tra la macchette Allora Qui Aspettiamo Facciamo un'altra modalità In caso Non lo so Se non hai immagini Su questo Su oggi Io teoricamente Non l'ho messa No In mezzo Di mezzo Ma strano Non credo Nella messa Non so Parliamo Sul mondo Pizzocalabro Grazie Grazie E carica Ma Grazie Pizzocalabro Ma a me piace Voglio Per uscire Porca Allora 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 Mamma mia Il problema è che Sono gli altri Sono troppo piene Non si riuscirebbe A entrare Tutti Ma io ne vedo Ma piuttosto Mettiamoci in coda Con quelle Guarda Perché Sennò Non giochiamo mai Le operazioni Sono abbastanza Un caos Comunque In alcuni momenti Un giorno In alcuni momenti Un giorno Provate conquista Che Eh ma conquista Non Eh sì È quella Ma conquista Tutte piene È quello Poi A me non mi trovo Nessun server In conquista Quindi Sì Ehm Cioè Lo vorremmo fare Conquista Ci sono Dei posizioni Grafiche Non esiste In questo gioco Ottimo Ci sono Ci sono Cerca Ah non lo so Maurizio Guarda Mi sono incrociati Gli occhi Per leggere No Scusa In video Non ci sono Fai altro Opzioni Ehm Eh Video avanzate Dove avanzate In alto A destra Ah ma che cazzo Prodor del server Te ne fa vedere Molto di meno Di quelli che ci sono Perché E allora Cosa Non c'è Vabbè Cazzo Mi riservano Allora Multigiocatore Vabbè Fai con qui Qui sta Poi magari Si unisce Vediamo 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 Un attimino Ti ho detto Preferisco stare In attesa Piuttosto che Aspettare Un ipotetica Un ipotetico Server Eh sì Ottieni Tutto Ottieni Tutto Adesso Spagliarle Sì Il menu È interessante Sì Mi resta per il pallino Però Dai Guarda Io c'ho Una parte Da qui Dove possiamo Entrare Un premio Di ottenere Prendo il Dominio Falce Maiale Vabbè Vabbè Non posso Unirmi Falce Maiale Ha detto Esferi Eh sì Che sarà Un simbolo Ma mandasse La richiesta A te Senti Intanto Questa Musica Tragica Di Sottocompa Sottocompa Non puoi Darmi Il Eh ma Forse perché siamo già I ti cerca No Dammi Il Non puoi Sanno Non si può Eh sì Che si può Eh ma non puoi Va a fare No Vai su Lì 4 A destra Ah Ah Puoi Nell'attesa Posso proporre Per squad Come nuovo gioco Per i sub Ciao Sara 21 mesi Sara Grazie Come culo La più bella Sara Grazie Sara Allora squad L'abbiamo già visto Noi Però Costava un casino Ancora Sì Però era interessante Però sì Era interessante L'avevamo visto Già tempo fa Signiamolo d'occhio In caso Come free to play Non è free to play Non è vero Maurizio E quello lì Squad Squad Quello di Steam Questo aveva tipo Quasi 30 euro Black squad Eh Ah black squad No black squad Non lo so Non l'ho visto Black squad Sì si potrebbe fare Quei salmi Partita al completo In coda 2 A me in coda 1 A me 3 Perché siamo tutti in coda Ma allora perché mi da 23 su 32 Ma scusami A me in coda 4 A me mi dava 23 su 32 Ma come fa la gente Ma la gente che ci gioca su pc Riesce 26 su 32 Questi entriamo per una cosa Scusami Ottimo Ottimo E non usciamo mai più Da questa partita Per favore Qui per forza Noi ci siamo Ah questa qua è la mappa Cargo Una neve Mi butto una neve Guardo Anche io Nudo Nudo però Sì sì Poi ti si congela Il pistolino Vabbè però che bello Vabbè Guardiamo Fresco almeno Meglio fresco Che caldo Nel pistolino Scusami Allora Io voglio essere Il mio Voglio essere Il cecco Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ma siamo tutti incastrati, ma siamo tutti uguali, scusi Non so, non devo muovermi Ma troppe, 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 siamo tutti dei diglet, oh Troppa gente, cosa si è tutti infil... anche lei qui? Anche lei qui cosa vuol dire? Eh, è imposta L'imposta Come si corre? Con shift come si corre? Meno male che ieri hai detto che non si farà tutto Ma sto, sto lentissimo qui, però tenendo L'obiettivo è una possum Una neve, forse Ma che è scritto il più lento però davvero? Ah, coglione, coglione Che bella l'impronta della neve Guardate la compagnia qui qua Vabbè Cado io Giazzare è caduto? Eh, sei mici da tirar su Eh, non lo so, Giazzar, ci provo Dove sono, Morelli? Vieni qua, ragazzo Non ti lascio in battaglia Ah, l'abbia vita che se ne va di nuovo Ma io non vedo i nemici qua, non ci vedo un cacchio Ah, una granita Ehi, tutto gommoso era Marco Qualcuno ce l'ha fatto Aiutate Ehm, Sprint Ah, bb Dov'è? È morto Per favore Occhio che davanti a me c'è qualcuno Lì, Ezzare Arrivo, arrivo, ci provo È qua davanti Lo vedete? È morto, è morto Mi ha ucciso Niente apposto così Marco, sono con te Grazie Brazio Andiamo a C, vedoci Andiamo a C Andiamo a C Andiamo a C Come faccio ad entrare l'isquadra? Non posso? Devi cliccare su sotto Eh no, non mi fa Fai su sotto No, non mi... Ok Ah, perché sotto attacco No, no, no Eh, Sprint Cosa facciamo qui? Ah no, non si può fare l'isquadra Cosa? Andiamo a C Andiamo, Marco Andiamo a C Ah, non posso fare l'isquadra E' piccola Attento, Mauro Fai i drop Non si può fare i drop Ma l'abbiamo già preso? Eh sì, tutto Come era il mili Non mi ricordo già più Con la F No? No, mi dà fastidio la F Ma dai, fermi lì Ma che schifo Allora, lamentati Sì, è tutto fatto, infatti Eeeh Dove saranno i uomini? Oh L'ho colpito, morto Ma si sente uccisione Va a bastardi A mezzo a che lo mozzavo io Ho ucciso uno E' un pagliucco Non so dove si è ambientato Credo sia in Francia Ehi, ce l'ha giù uno Difendiamo Marco Difendiamo Andiamo, andiamo Nel loro obiettivo Vai Simone Chi è caduto, brothers? Ma che ditte? Eeeh, uno di dietro Con la neve che è caduta tutta Davanti Morelli, davanti Ah, no, no, da via destra Mamma mia Jumpshot Ah, la mia vita, che se ne va? Aia La mia vita, che se ne va? Ma che se ne va? Ma che se ne va? Per favore Sono solo un povero soldato Eh, niente Eh, signor, ti dà la palla Giustamente, non è che Siamo sempre a questo punto Sennò sarebbe un sacco Eh, infatti, l'ho fatto, chef Fatto poco il sorate Devo riuscire a fare per bene il cecchino Ma andiamo Siamo tutti morti Andiamo ad A E poi forza Poi ci va ad A Che è venuto a capire il cane? Ando a susschierati Schierati, ti schierati Ma perché non posso scegliere scuse? Beh, non lo fa scegliere Vabbè, vado sul moro Il dormito non c'è Ma capito Va fanculo allora Niente Fa fanculo su un scemo C'è A Sulla data Potevi schierati su uno di noi Eh no Non erate morti Napoli No, vabbè L'ho sentito io Ho detto Napoli Ma quello lì è morto Aspetta No, niente C'era uno Oh, c'è uno Ma mi hanno sottato subito Mi stanno tirando su Grazie Ok, ne ho colpito uno L'ho solo ferito Non se ne va più Eh, dietro Niente Dietro dove? Ma in due copie ho ucciso E chi è? La vita che se ne va Morelli Aspetta Morelli Stai saldino tutti Morelli Ragazzi Io non lo so Mi faccio ammazzare Ma io non vuoi fare col cecchino? Eh? Ancora col cecchino Tu vuoi? Sì, no, no Io non demordo io, ragazzi Ci devo riuscire Non mi arrendo Ti colpisco, ti colpisco Mi ho colpiti eh? C'era qualcuno nella nebbia Mi ho visti, porca miseria Da dietro Ma c'era uno dentro il mio sedere Qualcuno Qualcuno mi salvi Ma adesso non lo vede Qualcuno mi salvi Qualcuno mi salva da volta Eh, c'è qualcuno lì da voi Aia Mischa Oh, salve Aia Non ho visto neanche chi è stato io Mischa, salvami Niente, mi ammazzo Guardate, Rinal Sono tornato No, Don Callisto Non mi trovo Con i portelli da lancio Mi fanno schifo Mi cambio Mi cambio Ma sei sempre Dato un T Stai perdendo Ma scusa Eh, sì Oh, Dio Michael Joseph Granata Qui Ok Beh, non ho ferito uno Ho ferito uno Ma non Mi sale La vita Forse a merda Marco Bastià Ma col battuta E' più di gente Marco Quando vado con la pistola Eh, sì Ah, la mia vita Ma poi tu, Dio Sei scappato Aiuto No, sono morto Dio, non sono scappato Per favore Sono morto prima di te Sono morto Non posso rischiarmi? Scusami Era abbastanza a mio modo Sì Fatte Allora, sto andando Ma all'uccio Pensavo così tanto schierando Adesso non c'è chi le malzze Ci vedete io come si gioca Eccomi Mauro Da lì Ma che è qua? Cosa è Oh, e fammi schierare Dove è la gente? Qui, dove sono io Ah, ma un lanciarazzi O come si trova c'ha? L'ho colpito in testa Ma mica è morto Colpito, non è morto Morto Io vorrei in cecchino Poi non vedo Le persone Io invece Tu vado negli altri punti Che sei lei? Ho visto benissimo Ma non l'ho colpito io, scusate Porca miseria Vedi bene chi, Marco? Sono tutti uguali Eh, l'ho colpito tutti in realtà Più o meno Quelli che erano qua Già, è un tagliatore cecchino Deficente Ah, sono vivo Sono lì sopra Lieza, sono lì, eh? Occhio, Lieza Eccoli Arriva, Lieza, arriva Va su Alla su, è andato Curati Attento, Lieza Porca vacca Uno l'ho ucciso Eh, da lì non vedo Marco, apertura Eh, non vedo, non vedo Lo vedo anch'io Davanti Perché sono tutti dentro E Lieza Tutti non ti possiamo aiutare Sono tutti nelle spalle di dietro Gli dà che si vede da casa Ma che ca... Sono le spalle che sti bastardi Non li vedo Peso Non mi spara Ah, non era una persona quella lì Com'è? Andiamo subito, Lieza Porca vacca Sono lì, Esprit Ho ucciso L'ho colpito Quello è uno Eh, c'è un altro Porca vacca Ho colpito Sono pieno di fuoco Sono caduto Grazie, Mauro Molto gentile Molto gentile Molto gentile Molto gentile Molto gentile Ho sparato Mi hai coltellato per sbaglio Scusa Come mi hai coltellato? Disgraziato Sì, ho bevuto F invece che farei per E Siamo da sotto Aieee Aspetta, Liezar Eh, sono troppo in mezzo Ah, Liezar, me ne va No, è troppa gente Sono tutti lì Ho preso Un po' in destra Ah, c'è pieno di gente Quanta neve è caduta Arrivo, Esprit Ma è esplosa la casa Stai fermo, Mauro È esplosa da casa proprio È metà casa e è sparito Non riesco a entrare, niente Posso così Vivo Marco, porca vacca Nei sei capace, niente Ah, io sono caduto Just Marco Mi sto andando meglio con il giacchino, guarda No, stavolta sto andando Sto capendo un pochino come funziona E va un po' meglio Eh, sì, ci stiamo massacrando un pochino No, in realtà stavamo vincendo Mi sono andato a caso Vado su B Vado su B Ma questo non è una strada Andiamo, 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 andiamo Andiamo su C Andiamo su C No, vado su B Vado su B Vado su B, Vado su B, Vado su C Ma sei con me Ma sei con me È un tipo di ufficiente È un tipo di ufficiente Perché sei una stellina Non sei in cerchio Perché sei il leader Mi ha colpito proprio nessuno io Eh, dai, prendiamo C E noi prendiamo B Marco, vieni Lo tengo, Morelli Vai al fronte a cecchinare tu Dov'è il fronte? Qua Eh, il fronte sarà sopra Ok, C Lo stiamo prendendo Ti vedo Ti vedo? Ti ho visti, Morelli? Sono lì verso A Sono dietro le rocce Alcun Dai Ci stanno ciulando A Ah, ci stiamo incendo Dai Non l'ho colpito Neanche Niente, non vedo più nulla Eh, non si vede nulla in qua E P.C., come ci mi curavo? Come ci? Con la C Che vuol dire che non lo vedevo? Arrivano Ohia, che cecchinata che mi hanno tirato È svenuto? Ok Porca miseria Mi ha ammazzato il supporto È dentro, eh È qui tra di noi, ragazzi Porca vacca Che dolo Ma non lo so, mi sa che sono dall'altra parte Eh, sta prendendo il punto Allora, c'è nostro Eh, sono io a B Sono da solo però Eh, rientro da te Eh, c'è l'hanno preso Ok, ce l'ho rientrato C'è l'hanno preso subito Sono tutti lì Merda No, qua sotto, eh Va sotto? Eh, sotto qua Dove c'è l'ho ammaccato Ecco Penso io Le rocce Aia Preso Preso Andiamo al rasentino Andiamo, dobbiamo andare Ok, uno l'ho ucciso Andiamo verso A Che loro sono andati tutti subito Non si vede mezza rocce Sono attentissimo Dove stare Eh, sì È come una mappa Sotto del pallo, questa Non si vede veramente niente, ragazzi No, è stupenda Però non C'è una mappa ha fatto Quella è la granata Eh sì, no, ci sto io Cazzo, cazzo è la granata Cazzo, un altro Vai, 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 vai Pusciamo, pusciamo Perché dobbiamo prendere il punto Vai, con le spalle Corri, corri, corri Almeno più L'ho colpito Ma non è morto Eh, l'ho mancato per un pedo Ho mancato Porca vacca Dai, dai 9-5 Ma mia, che action Che abbiamo fatto 9-4, 9-3 9-2 9-1 Ma dai, l'ho preso in pieno 8-0 Abbiamo vinto Vittoria Cazzo Sotto Mallorca Sono 6-6 Puh E in questa mappa qui Cicchino, magari anche sì 8-7 ho fatto No, non si vede niente Il mitra è ancora peggio Ma non è vero Da quando mai Io prima ho fatto così Ho ucciso due persone Che domande Ho visto i golpi Io prima ho dannato Ho detto Sparo un po' là E ho preso due persone Vorebbi Ciao flowers Ciao flowers Ciao flowers Oh Perché Ma riprovo qualcosa Col mitra Anche se non sono Capace in questo gioco Cosa col mitra È difficile Con tutti e due Il supporto mi piace Un casino Che abbiamo Dei mitra Un po' di merda Mark Quello è il problema Ah, continui Devo cliccare Aspetta Che è Che è Non è Dove? Ah Continuo In basso Da sinistra Prendo l'assalto Che non è stabile Marco Perché Forse un po' più stabile Sarebbe a posto Eeeh I più belli Probabilmente Mi prendo l'assalto Sto giro Provo Ci sono cecchini Che Proprio Gli danno Eh, penso Ti saranno Se volete provare Il fucile iniziale Della classe Supporto Lo passeranno Il 4 dicembre Da quanto è OP Ok Adirittura Sto notando Che è fatto Quello che sono io Eh sì È forte È fortino Cos'è Sto mappò Non ha rinculo Non ha niente Piegati Piegati Non mi hanno messo Cosa è questo Deadmatch No? Hai sempre conquista Come prima Ma vabbè Mi ha affaudato Dall'altra parte Come ho fatto Ad andare avanti Quello lì Ma è pazzo Andiamo Ti ho messo da solo Morelli Scusate Sono dall'altra parte Catturiamo Catturiamo Adesso muovo C vada A C Ok Andiamo su C Passo sul fuoco Ai 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 Mi ha uccisi un paio Ce n'è un altro Tu puoi prendere gli aeri No eh Però vorrei fare Una volta guidare gli aeri No E' veramente terribile Occhio sono qua Alcuni E' comunque terribile Aia mi buttano Eh rompono tutto L'ho ucciso Ce n'è anche uno là dietro Eh Ho visto i piedi Eh niente Sono morto No Ti va su Aiuto Non è niente Posso così Ma la stampa è impossibile Non lo so Non callisto C'è troppa roba Ci provo Ma hanno preso via Vado dagli Ezzar Ma qui Porca miseria Resistimo E' morto E' morto E' morto C'erano 7 fraccione Che uccide 2 Ezzar Ho baiato di uovo Prendiamo sempre F Invece che E Ah vedi Ho tirato Ma allora Ho capito Perché pirla Ho salvato Ci sono persone Amici qualcuno Mi può tirare su Eventualmente Eventualmente Quel giovanotto Niente Eh no no Non c'è nessun Ma ci hanno preso tutto Ma com'è possibile Sono qua Sto prendendo il C Tipo gamer Ma non mi Vabbè mi ho spawnato Direttamente sul C Comunque Eh perché quando non hai messo Un punto ti spawno a caso Non sto usando il C Chino adesso E' pinza Che paura Pensavo fosse uno Dell'altra squadra Quello è uno Ahia L'ho preso tre volte in testa Stiamo catturando Ok Una mano Buonanima Mi salve Dove va No sono tutti bastardi Morelli Ci sono degli aerei Non credo siano No 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 Da fare conquista Per arrivare Niente Ci hanno preso il punto Per forza Michael Ma sono un atto Con i proiettili Io Poi lo sponda bene Allora Ma va Ah la mia vita Morelli Non riesco in possesso Doctore Ah Morelli Sono passente Doctore Morelli Esprit Ma che fai Anche lei qua Ahio Troppa gente C'è un giochino di sopra Sul tetto L'ho visto E qua il giochino va bene È proprio il figlio Che devi cambiare Ho ferito ma non è ma Ma che paura Sono salbato Marco Eh sono moruto Moro sono boruto Mi salvi Guarda via Marco Nel culo Ah eccolo qui Guarda che bello giovanotto Bello giovanotto Bello giovanotto E muori Salite Salite Tete Oh ma vaschera Esprit Lassopra No Lì qui Ah la davanti Mauro ti sistemo io la squadra Ti faccio le basette sul pub Ho preso Io non so a quanto sono di punteggio Non voglio guardare Non è possibile sta cosa Esprit ti salvo io Morelli Ah no ti salva lui Va bene lo stesso Servirebbe un mirino effettivamente Sono schierati bene loro Sochmel Eh ma sono troppo schierati bene Bisogna andare dietro le linee nemiche Questo è un caso Gli ho colpiti ma non sono buono Mi servirebbe un mirino effettivamente Si Ok soldato è moro È qualcuno È qualcuno che ha un leggerissimo Ma forse riesco Una leggerissima gentilezza Nel provare a ressarmi in maniera educata Oh mi sparano di là È una granata Ma che paura sono già morto gli azzarco Ma ha fatto Scusa Non ha ucciso te ma ha ucciso me Perché me ne sono andato E non riesco Forse muoro riesco No Allora No non sono troppo No lo so Non calisto Lo so È che mi fa schifo dall'alto Semplicemente Preferisco vedere cosa sta facendo il mio compagno Così Valuto se entrare o meno Provate a guardare Temtem Ancora in alfa Sto già morendo ragazzi Sto già morendo Tu di gioco è Ah l'ho ucciso uno dalla lunga distanza Qualcuno venga con me Proviamo a far l'assalto da qua adesso Ok Appena Proviamo 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 Colpito Sto colpendo ma qui è un disastro Per mettere il mirino Non avevo capito Credevo mi stessi dicendo per guardare Allora aspetta Ho più munizioni Ce la fai? Ce la fai? Come si usano le munizioni? Come faccio a mettere il mirino? No c'è uno davanti a me Anoramica schieramento Clicco sulla mia arma Ragazzi il più munizioni Come faccio? Per le munizioni? Aspetta Che culo al pelo Devi Penso il tre Tre? Metto qui Io lancio le cose col tre Questo qui? No Morelli c'è munizioni Proviamo questo qua Non c'è listo Vediamo Aspetta che dovrei ricaricare Oh Dio è un po' appariscente Vediamo Vediamo Ce n'è uno qua Giazzar attento Tira una granita Porca miseria della finestra L'ho colpito 21 Però lo colpito Curami Curami Giazzar Curami E allora Bacchulo Copritemi E tu curami Dai Lascio Non lascia le cure Giazzar mi tiri su Per favore Dove sei? Sono qua sopra Moro coprimi Copri un altro Un altro Aspetta aspetta Devo andare in bagno Ma è morto Liezar Proprio davanti al mio corpo Nudo Sono pieni di cecchini M'han distrutto tutto qua E allora Bacchulo Eh spirit Non morire Bravo Sono pieni di cecchini L'ho preso tre volte Quella eh E' ancora morto C'è un sacco Facendo questa strategia Dovevo buttare due le case Dovevo buttare due le case Lanciamo le granate Dentro le case L'ho già tirata La mia E' di più Di più Dovevi andare a fare Della sola Oh Vaffa culo Perché sei in battaglia Maledetto Esprit Maledetto Marco In battaglia Che sei? Ok Non potevo respawnare Se ti sparano d'ossano Si può respawnare Sopra lui Ma io li sto colpendo Ma non muoiono Ma sono primo di noi Che storia Ah beh Ho sparato in pieno a lui Cioè È in pieno davanti a me Paticamente Moro vuoi soddisfare la mia Golosità Ma per favore Cos'è? Maledetto Arrivo amici Resistete Moro ti prego Sbagliato Che ho coltellato Moro perché mi ha coltellato sempre Mamma mia Grazie Fatto Andiamo Grazie Aspetta che c'è un altro Uh Uh Licio Licio Che è bastardo Mi tirate su? Eh no Dove sei? Ho finito i colpi amici Eh siamo un po' davanti Amici ho finito i colpi Ci provo Ci provo L'Ezzard Qualcuno mi può dare dei colpi? Rischia Ma lo posso fare io Non posso darteli Ma infatti Marco Puoi farlo E poi c'è la cassa qua Cos'è questo? Ah no è dinamite Io proteggo dall'alto La T? Sarà T? No C'è un martello Vabbè Avanzo piano piano Lancio la garata qui Vi apro un barco Avanzo piano piano eh Adagio Molto bene Dove era la cassa Morelli? Ci vuoi un fondo al campo Ah ma Da dietro Ok Questo l'abbiamo ucciso Ma scusa ma Mi hanno preso a nostro punto? L'abbiamo presa L'abbiamo presa Ah Mi hanno cambiato Porca misera C'è una Eh ho capito Avete sbattito il culo Mi sbattito Qualcuno mi ha dato 24 Munizioni E' conteso B eh Ah no ok Posso Beh mi sbattito il culo Ovviamente mi sono fatto malissimo Beh io perché non riesco a uscire Ok Oh qui mi spada Ok Eh beh L'ho ucciso io Ah e c'era solo lui Sembra strano Stiamo perdendo veramente brutto Ah 8 punti abbiamo Vado magia la nostra Ma chi se ne sbatterlo Abbiamo 8 punti Andiamo ad A Eh ma rischiamo di perdere questi due Siamo ad A Eh ma dobbiamo per forza Perché se non prendiamo Non l'ho colpito Eh c'ho veramente pochi colpi Io ragazzi Abbiamo un punto di vantaggio Eh ma in generale c'è un po' i colpi Non è solo te Marco In generale c'è un pochissimi colpi Mi hanno compito A cazzo Ma guarda questo Era dietro era Faceva il barbara lupa Ho passato secondo Noi stiamo giocando bene Dietro? Nel bus Grazie mille Ho sparato nel bus Spara brutto Grazie No era pieno di gente Lascia perde No tu sei assalto e distruggi i carri Sì sì Eh non lo so per te Ho avuto un attimo di defaianza Non ce la faccio Eh non ce la faccio Guarda sto troppo avanti Che è successo? Sono spesso con una granata Ah questo potrei salvarlo Eeeh No da dietro Si vede stufato Favendo il supporto qua Dove hai il supporto? Sono colpito Ma veramente Porca miseria Lì dietro una granata Dietro il camion Marco Ce ne sono Sì sì Lo so Uno l'avevo ucciso E abbiamo fatto schifo all'inizio Perché zero Poi punti scusa Abbiamo avuto punti per un sacco di tempo A zero perché vanno A zero perché vanno A zero A zero A zero A zero A zero Le vite rimaste alla Ah in quel senso Sì 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 Capito ma ogni gioco è già diverso Se non si decidono Capito No noi effettivamente non abbiamo giocato così male Cioè No siamo Un buon puntino Per essere chiaramente al livello 3 Siamo Abbiamo avuto il gioco A battito su pc Guarda Non siamo Non siamo esperti di battlefield Comunque Continua Effettivamente abbiamo tenuto botta con gli otto punti alla fine Sì sono resistiti molto Poi non è che siamo stati bravi Per davvero Però per essere Non aver mai gioco Per essere dei nabetti Su questo Ho visto Quando hai meno punti Cioè Questa sono tre punti abc Quando hai un punto su tre Ti calano ogni secondo Se no invece ti calano Ti calano le paste Per quello che puoi recuperare Ecco io ho fatto personalizza Quello che ho fatto Cambio aspetto Copri capo Io voglio Come lo sai cambiando In che campo Io avevo messo Copri capo Io Mi dico Il campo Mi dico Da battaglia Illusionista Infatti ce l'ho Deci copri Io non ce l'avevo Ma chi è che dà le munizioni Sul porto Giusto Sul porto Eh però non mi va Il tezzo è Sì È il supporto Vabbè mi tengo l'assalto Quindi siamo tutti diversi Almeno dai Io Ah Voglio anche io l'assalto Voglio Dove due assalti Facciamo Allora la mappa dell'altra volta Ma non è la stessa La mappa dell'altra volta Ehi Ehi Chi mi spinge Ehi Chi è che mi spinge Ehi Chi è che mi spinge Ma guarda che diglet Guarda che diglet Che cazzo è sto spawn Perché mai dovrebbe essere Perché ho messo un punto di spawn Invece che mettere una zona Ho capito Ma porca muttana Andiamo subito a B Questo ma è Significa essere dei coglioni Non ho preso il punto Ho perso i punti iniziali Vabbè C'è un mitere mi fissi Cazzo come ha perso la B C'è un mitere fisso E' un mitere fisso E' un mitere Andate Andate E' un mitere fisso Ma proprio sul punto è così Ma siamo pazzi L'ho colpito Io sono subito Ma chi è che colpisce Col martello qua Ok Ripariamoci Ah uno ne ho ucciso Forse Ma ci si può sporgere Mi tiri su Eh arrivo Ma io non so dove mi copiscono Però non so dove Non vedo Non vedo C'è un mitere qua in fondo C'è un mitere Ma c'è un altro cadavere lì Ma che miseria Il fatto che non ci si può muovere da Bestia Mi scuso all'anno A terra un po' un casino Esprit aiutami Dove sei Marco? Sono qua dietro il carro Cavalco Qui andrebbe molto bene il cecchino Ma era il suo cambio Sto tirando su tutti Bravo Maurelli Corri Marco Corri Marco Andiamocene Via Marco Fuori dalle balle Dai mi sparano E niente Che paura Eh vabbè c'era l'altro Io ho sparato il mio compagno Il mondo Io Che fatto 800 punti Sto tirando su Attento che c'è uno eh Eh quando andrebbe bene il cecchino In effetti Adesso magari Marco arrivo eh Attento a destra Davanti a destra Non lo so c'era uno a destra A sinistra qua forse Aia Vi siete esplorati Vi tiro su io Non so dove la gente Ti penso io Eh vabbè Resistete Resistete Cazzo Stiamo morti tutti Ma hai seguito quanto Quando hai struito? Eh sì Eh mi sa che c'è un Carlo C'è un Carlo C'è un Carlo Un Carlo Ok ti tiro su Un Carlo Allora vai a fare il cecchino Ho capito Sei sempre per terra E alzati Disgraziato Leva qui Sì Vuoi far morire il tuo salvatore Eh Prende la tua arma Che bella bella Porca puttana In realtà Sto vedendo che il cecchino Non è così Ottimo invece qua Secondo me Morto Ma ti l'hai messo Dove Che passate questa Per Ah Non sapevo quando lo sai Di quanto andare Ho capito Se l'hai messo mezz'ora Mi tiravi su Ero già su Ma c'hanno già tutti Conti loro Ma che paga Ma che controllato io Vedevo Vado su A Suicida Marco sei in battaglia Maledizione Non posso respawnare Stai insieme Rimani riparato Rimani riparato Non sparare Ecco Posto Attenti eh Rischio Andiamo su A Io voglio andare su A Tento lì a Zord Come? Preso Ucciso Bravo Marco cura Quello l'ho ucciso con lanciarazzi Ok prendiamo Ah c'è gente Non posso curarmi Comunque Sono già curato Morto? Ero fatti curare Dagli Zord Eh sì Ho curato Marco Credo Buono Ma può lanciarazzi Quello è Occhio 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 Apro la porta Entra dentro Giuro Ho capito un altro Ho aperto la porta Sì si può aprire le porte Ah ci sono le cure qua Apri e chiudi La credenza Ah ma questa è la chiesa Ah no è il teatro Che figo C'è gente a B Dovremmo provare ad andare Eh dobbiamo andare a B Passiamo da dietro Marco Passiamo da qua Ah saluta No non si può andare Di qua Vieni seguite noi E parla che B è Bruno Cioè Alfa Aia Delta Charlie Beta Charlie E Bruno Bruno Allora Alfonso E Carlo Ma si può Ah ci si può rompicare Ah non so preso Bravo mica Bruno E dove si sale Ah no No ma è Bruno Anche io mi ricordavo bravo Bravo Eh bravo dovrebbe essere Però invece Bruno va bene Non è che fanno le battute Perché sono simpatici Ah Magari si Che paura E io gli spacco la faccia Merda ma quanti morti lì Sopra eh Occhio Ma scusa Ma non c'è un pallino blu su di questo Mi ha sparato Eh Moro Non ci arriverò mai Ma dove sono Tutti quanti Perché io dico più Mi arriva una torta Sopra Sopra Ah io mi sparo Eh vabbè C'era un cecchino lontano Non riesco a giocare Io morelli Non è schiacciuto Sto facendo abbastanza schifo In questa circostanza Ma lì sponiamo Ma sono in una ferrovia Come Mary Ma non mi saliva Ho capito Mary Oh quanta gente Eh sì Non lo punto Porca vacca Che botta Che mantieni Favolosa Ma siamo i crocchi noi Ho visto adesso Oh io sto prendendo B comunque Anche io Sono qua con te Io sono sopra di voi Sono sul ferrovia Sopra lì C'era un cecchino Che mi spaccava la faccia Prima Anche a me Prova Fa un culo Eccolo Va bene Merda E lì per terra Lui sta Amargli Ezzar Che pagucca No ti ho curato Trova lanciato in faccia Guarda che qui è un'ottima posizione Dove sono? Ma non tutti qua però E che possono arrivare anche da sopra Vieni da sopra Marco Vado su C Vado su C Frega niente E infatti Un'acqua Non ho caduto Eccolo lo vedo Lo vedo Arrivo eh Moro C'è vedo i colpi Eccoli Ma guardate che scarso Che sono bravi Ma ci hanno ripreso Tutte le altre Ma allora va Fa un kilo Andiamo su Andiamo Eh sì Molistere In acqua Due di sub di fila Sono shroud Tre Tre Ho finito i colpi ragazzi Andiamo andiamo Moro Ah c'è uno Andiamo Dentro Dentro fammi tra Dai 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 Tenne uno qua Ma no Gli zarono una vita Corri Sono in due Non correre più Arrivo io Fa il giro eh Resisti eh Ho chiuso la porta Anziché tirare di Marti Che è niente Ma che figura di merda Amici sto prendendoci da solo Yeah The Will Un salutone dalla Calda Svezia Oh che storia Come dalla Calda Amici sto prendendoci da solo Brava Dove era? Non c'era la porta Rispondiamo anche noi L'ho preso Non ho più Non ho più munizioni Qualcuno me le butta Marco qui Dove sei? Grazie Dove andiamo su Dai cerchiamo Aia dietro La merda Uno l'ho ucciso Posto? No c'è un altro C'è un altro Aspetta che c'è l'altro Mi aspetto qui allora Sei vivo Marco? Quello è un nemico Vabbè Ok L'ho pugnalato Ok Bravo E niente sono per terra Aspetta Marco Ci penso mi Resisti eh Marco Sono salito a livello 4 Mezz'ora per accoltellarlo Che mi dà fastidio Cosa vuol dire F? Marco c'è una bomba Oio Preso Marco si resistente Grazie Ho sparato Scusate Imbarazzo Mi dai altre munizioni Morelli A dove fosse possibile È pieno Non posso Marco Marco resisti ok La gente è nascosta Trovato Trovato Ok l'ho ucciso Moro Dove sei? Ok Ti hanno tirato su Me ne date altre di munizioni? Tieni Marco Ah sono morto Sono morto Ho sbagliato È a destra dell'obiettivo È leggermente a destra dell'obiettivo Ok l'ho ucciso Ti tiro Ti tiro Sono anche sinistra sono eh Siamo veramente bravi a fare la guerra 5 No Occhio Dietro Ok l'ho ucciso l'ho ucciso Parca miseria che paura Mi hanno cecchinato amici Grazie Mi hanno colpito Ti do poco di cobertura Ti do poco di cobertura Grazie Mi curo Questo obiettivo è il nostro Non Ma il fatto è che il cecchino là ci blocca Ho sudato io Vai il cecchino Eh c'è un cecchino in fondo suo A che spara A noi È il fatto che dobbiamo andare Uno di un'acqua eh Il fatto è che dobbiamo andare verso B No verso A Andiamo una qua Andiamo una qua Sì continua a cadere Eh c'è uno C'è uno C'è mi sta continuando a sparare Vado via Eh perché il cecchino è la Palle Eh come questo va da 5 Eh non è spiacendo per ora Ma è divertente Poi da giocato in squadra così Sì Sì È stranamente divertente Oio Madonna Esattamente Ma ci ha ripreso Sotto la cima Allora ma fa un culo Capito appena siamo andati via Stanno giocando solo 9 Scusa Lo capisco Andiamo via Stiamo prendendo tutto No ma scusami L'ho colpito 27 volte Cosa succede dentro la macchina Qualcuno mi dà una mano Per favore Grazie uber È possibile avere un risarcimento Grazie uber Ah è spriti in culi Vado da Morelli Che so che è un golosone No no vai vai Ci hai chiuso la porta Dovevo andare su A Io vado Ma sì ma le iscritte C'è bianche C'è tutto bianco Amici su B c'è gente però Sono morto Io provo ad andare su A Eh io mi seguo muoro Eh ma perdiamo B così Marco Aspetta Esprit Grazie Paolo Marco Grazie mille Grazie mille Faolo Occhio su B Esprit Ma che sua forse C'è nostri compagni Anche su B comunque No ma è pieno di gente nemica Non stanno facendo niente I nostri compagni Vieni 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 al punto No non lo stiamo prendendo C'è qualcuno Sì mi sa c'era un cittino lì sopra L'ho colpito È andato il nostro compagno Sto morendo Sono morto Però siamo più noi Quindi vinciate Eh sì Grazie corner Sei molto gentile Ma stavo vincendo la partita Ma scusa Sono Come faccio ad essere decimo Scusate Con tutti i punti che ho fatto Ho preso anche un punto da solo Eh di me sdecento Eh ma con le varie resurrezioni Che abbiamo fatto Perché sono primo Sendo il medico Ma scusami Hai vinto Hai vinto Hai vinto Sono stati bravissimi È molto goloso Anche io Anche io sono goloso Beh sono un'altra Sto divertendo Parapalaaa Parapalaaa È ultima partita quindi Eh sì Che durano venti minuti Verrà migliore Sì Era meglio noi comunque Ma infatti Vaffanculo a loro Chi è che ha preso tutti gli obiettivi Ha fatto vincere la squadra Oh Deficienti No Cappano Marco Dov'è Continua Porca miseria Che ricordi Schifo di mappa Che viste lo look Ma ci sono gli obiettivi Giorgia non lì L'ho visto adesso Giorgia non lì Il posto è pilota, eh pilota non lo provai Vabbè chiede andare a porto così Eeeh guarda guarda Sì sì, il problema è come si è messo la migliore Ma scusa, mi ho preso un obiettivo da solo In mezzo alle linee nemiche è stata la cosa più difficile della partita In mezzo alle linee nemiche è mica dietro No dietro, proprio in mezzo In mezzo Luigi Certo che ero in mezzo a loro In mezzo a loro Eh sì Arco, stai tranquillo Guarda che ti do un copino che vomiti, eh Io te lo dico Moltissimo quindi, come fai? Certo Giorgiaglieri Giorgiaglieri, perchè avete detto Giorgiaglieri anziché giornalieri Ho capito Fammi usare il... Faccio il ranger di fuoco Il ranger come scusa? Dura facciale, niente, tanto sono nero Cosa vabbè? Vabbè Non si vedrebbe Puoi farla comunque, devo dire L'idea che hai potuto pensare da Ceni Era per forza Puoi farla anche bianca se vuoi Ho capito, non ce le avevo sbloccate allora va bene Eh, non mi fare un po' il supporto a me, va? Visto è uguale per me, Marco Ma che bella la grafica Dovrei sempre dei ragazzini... Un po' sì Un po' di ragazzini di... Ma quanto fanco che c'è per terra Che fa questo? Fammi spawnare, va Ehm... Che devi fare Tappetta Perugia Ehm... Dov'è il primo obiettivo? Scusa Eh, ne so io Eh, qua C Eh, vabbè Provato Eh, vabbè, ho capito Siamo paleontologhi Sono da gli altri Per andare a B dobbiamo andare Sfondo tutto Apro la porta Può cambiare in corso della classe Sfondo pure questa anche se non c'è bisogno Ehm... Hai una cella di isolamento, scusa, questa casa Voglio fare il cecchino Ehm... Abbiamo fatto su altro Potrebbe essere utile Eh, non lo so Non vedi un cazzo qua Eh, però effettivamente sì C'è molto lontano da un punto all'altro Oh, lancia razzi Arancia i cazzi Ma c'è un carro E' more lit vigente? Ah no, è l'obiettivo il carro Ma il vigente è... Ci sono... Ma i veicoli Sto in questo gioco Ha giusto un webb Più che hai capito come si fa la guerra Certo Bisogna sparare alle persone così che muoiano e io vinchi Mamma mia che pelo Ti è bomberto Eh niente, l'ho coincito ma non è morto Mi raggiungo Ma c'è... Mi date una mano per favore eh Moro Cortesemente Moro Dove sei? Per favore sai... Sai... Ingolosirmi per favore Niente, va bene Moro Sei ubriacone sei Mi hai fatto morire ma hai fatto Vaffanculo tu mi hai fatto morire Sponate su di me in casa Bravo Mauro Aia Ma come sono finiti? Mauro 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 ho preso la luce Mauro Arrivo Morelli Prima gli tiro una granita Anche tu ma no Vaffanculo L'ho ucciso dai E' morto Morelli E' morto Ok il post Aiuto Esprit Euro Travessiamo il fiume Occhio è che c'è gentaglia qui Ma che profonda questo fiume Scusa E' un fiume... Grosso Ho bisogno di culo uno Dai fatti uccidere Bastardo Una bella bomba Ok l'ho ucciso Mi colla gli oghi Le spalle sono i bastardi Aia Non sono alle spalle Sono alle palle E' anche No da dove? Da dove? Ma che cazzo? Sono in mezzo a loro Da dove? Da dove? Vabbè Chiedi a tirarmi su? Sto tirando a te 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 Mi ha accettato Mi ha accettato Mi ha accettato Oh è morto uno finalmente Due cubi di cecchino Oh l'ho ucciso Sei stato ganzo eh Eh ti tiro su ti tiro su Esprit resistimelo Ok Eh vada Marco Un problema Andiamo su C Vieni Speso 1 Eh spirit vieni su C Speso 2 Dove ricaricare Ci sono entrambi uccisi Andiamo a prendere C Eh sono C loro infatti Ti arriva Marco Ti ha curato Occhio me l'ho visti passare Già Ah ma è nostra No c'è per chiamare aiuto O devo sentire se vuoi entrare subito Eh ok che c'è quella dietro Metti che non c'è nessuno in zona Eccolo cecchino Almeno 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 appunto subito in partita Beh Si è messo a piovere Avevo messo al quartiere adesso C'era il sole prima E' semplicemente per quello Io fido in un po' Ahia bastardo Arriviamo Niente Niente sono morto Vabbè No meglio si muoio così Ahia Stavo arrivando a dartle Ma non troppo più Cosa che c'è? Adesso 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 No niente Sono morto Niente Mi ha colterato una dodicenne Posso rientrare al gioco? Io rientro Ma che palle Quanto distante mi ha fatto rientrare Perché non fa schierare? Mi schierò con quelli che sono nati qui Vado su B Però mori Io vado su C Vado su B Andiamo su B Andiamo su B tutti dai Ma che palle Questi che piccano sempre Anzo Perle 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 Porculo Porcla faccia di falli corn faltardo X Cornfaller Corn congione Troppo Si Ma B è qui Eh si Ma siamo particolarmente stupidi oggi Che male mi hanno fatto Io si Marco Amici poi il medico mi deve cicciare Ci sono dove sei No te l'ho lanciato Grazie molto bene Non so dove sto Non vedo niente per mezzo Vengono anche un po' di munizioni Si è morto in due secondi Aspetta aspetta arrivo Tiramelo Grazie Mentre nelle linee nemica Verso la vittoria Andiamo verso Cida Ho sparato un bengala Cosa ha detto striscia cazzi Bancato Aia Mi sparano lì Orca miseria Sto arrivando eh Non lo sai successo Sei tutto banchazzo Sono morto perché nell'acqua Quindi non posso restare Bravo Liezard Non l'hai preso? Mi sembrava l'avessi ucciso E qua Liezard Andiamo esprit attraversare Dovrei averlo ucciso eh Ho colpito quantomeno Faccio io Liezard Tranquillo Liezard Non ti preoccupare Non mi muovo Ma si Moriamo Splash Esprit te l'ho visto Esprit Don t'azzardare a morire Ti do un pugno Guarda Sto provando Guarda i tipi di gente Preso Colpito anche io Correvo bastardo In casa hai l'ho visti? C'è uno là dietro Circo un navigo Dobbiamo entrargli dentro la casa Questi Gli busso gli dico chi è E loro vogliono vedere Cosa c'hanno da rispondere Sono morto ragazzi Bravi Tiratemi su se riuscite Sono lì in fondo Bravi Bravissime Bravissime Ma che cazzo che male Tira una molotov Ovunque sono ovunque Tira una granata d'impacco Entriamo dentro qui Nella casa Un bel arrendamento Chi è che vuole munizioni? C'è il secondo piano Aia Gli ezza L'ho ucciso uno Sono morto C'è uno che mi ha ucciso ragazzi Arriva arriva Gli ezza se lo uccidi Occhio Arriva L'ho ucciso uno Grazie Molto gentleman Vai Occhio che ce n'era uno Ce n'era uno Eccolo Amici Eccolo Ma è sempre quello che mi ha ucciso Perché lo ignorate Viene solo da me E non posso Mi ha chiuso la porta in faccia Aia Mi hanno ucciso di nuovo Ma perché voi siete dentro Io non riesco ad entrare Io sono senza vite Amici arrivano Mamma mia Tiratemi fuori C'è dentro Occhio c'è la finestra Lì a zero È la finestra Eeeh No mai sono partito Ti copro Ti copro Niente Non riesco a tirarmi su Porca vacca No sei su adesso Sto facendo un lavorone Della madonna Comunque Non ho più emunizioni Io Ampelo Sono morto Porca puttana Glientar dove cazzo sei Eh no sono in mezzo Amici occhio lo vedo Ma stiamo stravincendo Amici Uno l'ho ucciso qua Porca mignotta Da dove mi sparo No è spittocchiato Eh che succede Ma che succede Rintro da moro Eh sprint resisti È un boss C'è un altro Corelli Ah porca troll Ma sei bravissimo Tu Non vedete c'è un po' gente Comunque No Troi ho sparato E' più buchi delle seringhe che delle fanno morti Non cazzo, per davvero Amici, la mia vita ce ne va No, siamo tutti morti No, 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 no Arrivo, Esprit, eccomi Dove sono Morelli? Dietro, l'ho ucciso Ma Esprit, ma le fanno Morelli Aspetta, Esprit, resisti Resisti Esprit, mazza, esprit Resisti, resisti E' là, abbiamo vinto Abbiamo vinto, tanto, tra l'altro Ah, cacchio, sono in positivo Anche io sono in positivo 10-6, sono il miglior killer della squadra Però sono bucato Ma questi qui chi erano? I migliori siamo noi No, mi sa che erano i primi in classifica I primi delle palle, i primi Amici, no, devo mangiare No, non posso, devo mangiare Devo mangiare E' come sempre Come tutte le volte Come si esce, allora? Alt F4 Ho fatto continua Alt F4 Io ho fatto alt F4 Alt F4 Non funziona, non funziona Alt F4 Non mi va alt F4 Marco? Alt F4 Marco? Non si chiude Sei chiuso Amici, grazie a tutti quanti per l'enorme particolare Non abbiamo fortificato Ci vediamo Allora oggi comunico col video E poi stasera con Red Dead Redemption 2 Online, mi raccomando Così vedremo finalmente se è bene o male Esatto, belli Se è male Se è male Esprite, ci compriamo Splatoon Facciamo una serie Ma fa il culo Splatoon Voglio farlo Splatoon E farlo nel tuo canale di merda Ciao Ciao Inutile persona, guarda Vestardi